La testa ufficiale è stata fatta, non ho avuto neanche risposta, è quella la cosa che è grave. Così come, ripeto, non ho avuto risposta dell'accesso agli atti, doppiamente grave. Che dire, qui sembra che il messaggio è non siamo favorevoli alla ciclabile. No, no, noi siamo favorevolissimi alla ciclabile, quella che abbiamo visto in queste zone di Fiumicino, quella che abbiamo visto a Fregene, quella che abbiamo visto in alcuni tratti della città. Non siamo favorevoli a chi vuole raggiungere 50 km di pista ciclabile perché era un obiettivo da campagna elettorale e magari per completare gli ultimi eventi dipinge tutta via Castel Campanile. Non siamo favorevoli. Le scelte vanno condivise con la città, ripeto, in primis con chi la vive, perché proprio ne richiamo a quella onestà intellettuale che dice lei. Faccio presente che questa amministrazione si è vantata tanto dei bilanci partecipati, delle consulte cittadine, della partecipazione. Poi la gente chiede l'incontro e non gli viene dato. I consiglieri chiedono le commissioni e non gli vengono date. Accessi agli atti e non gli vengono dati.